Buongiorno, in questa video lezione parleremo del capitolo 17 dei Promessi Sposi. Il 16 si era concluso con Renzo presso l'osteria di Gorgonzola, quindi se vi ricordate Renzo si era spostato con anche una certa circospezione nel paese più vicino all'Ada, quindi aveva scoperto che era Gorgonzola. E quella osteria sente anche i racconti di un mercante che addirittura parla delle rivolte del pane di Milano e Renzo riconosce anche se stesso nei racconti del mercante, ma è un se stesso ovviamente falsato, quindi viene accusato di un sacco di cose che in realtà non aveva fatto. Quindi esce da Gorgonzola con molta ansia, quindi da un lato ha, viene proprio detto all'inizio del capitolo, aveva due impulsi contrapposti nel corpo. Da un lato la voglia di correre, cioè di scappare, e dall'altro quella di stare nascosto, perché dunque la sua avventura aveva fatto chiasso, dunque lo volevano a qualunque patto, cioè a qualunque costo. Chissà quanti birri erano in campo per dargli la caccia. Anche se poi, razionalmente pensando, sa che solamente due soli l'avevano visto, lo conoscevano, quindi quello della sera prima e poi lo taglio criminale, quindi in realtà è come adesso che ci sono le foto segnaletiche, e quindi ragionevolmente Renzo avrebbe anche potuto far finta di nulla. Anche se ovviamente ha questa angoscia, e appunto dice ha in mente racconti di fuggitivi colti e scoperti poi per strane combinazioni. Però, appunto, quando inizia a calare un po' l'oscurità, alla fine prende, diciamo, la strada maestra, la strada principale. Dunque, il suo obiettivo certamente non è quello di tornare a Milano, come dice, insomma, fra sé, ma è quello di andare verso l'Adda. Cammina, cammina, presto o tardi ci arriverò. Quindi, lui sa che più o meno l'Adda, che è il fiume che passa tanto da Lecco, da casa sua, ma poi scorre verso il sud della Lombardia, sa che lì più o meno corre il confine tra il Ducato di Milano e la Bergamasca, cioè la Repubblica Veneta. Quindi il suo obiettivo è raggiungere l'Adda il primo possibile. E infatti pensa l'Adda a una buona voce, quindi una buona voce, come se il mormorio talmente familiare del fiume Adda, appunto il suo obiettivo, quindi è qualcosa di familiare che lo rassicurerebbe. E poi dice, appunto, pensa, se qualche barca c'è subito, passo subito, altrimenti aspetto fino a domani mattina. E poi ripensa un po' a tutte le accuse che ha sentito dalla voce del mercante. Infatti dice, io fare il diavolo, io ammazzare tutti i signori, io un fascio di lettere, pagherei qualunque cosa per trovarmi viso a viso con quel mercante di là da Ladda, per, insomma, fargli sapere realmente cosa ho fatto. Quindi dice Renzo, il diavolo che io ho fatto è stato aiutare Ferrer, il governatore, come se fosse un mio fratello. Perché, poi sappiate che invece quei birboni che, appunto, la voce pubblica dice che erano i miei soci, i miei alleati, in realtà mi vollero fare un brutto scherzo. Se vi ricordate, a un certo punto gli volevano fare la pelle, quando Renzo dice, non possiamo mica ammazzare il vicario, quindi non sarebbe un atto da cristiano. Appunto, sappiate che io mi facevo schiacciare le costole per salvare il vostro signor vicario che non ho mai né visto né conosciuto. Aspettate che mi muovo un'altra volta per aiutare dei signori, è vero che bisogna farlo per l'anima, però, se poi la ricompensa è quella di essere accusato di essere un criminale, un terrorista, diciamo, il gioco non vale la candela. E poi se la prende anche per il discorso delle lettere, quindi nella voce pubblica questo Renzo Travaglino aveva un fascio di lettere, che erano un complotto dei francesi, e Renzo dice, eccola qua la lettera sola, che ho io una lettera sola, e questa lettera, se lo volete sapere, la scritta un religioso, che ovviamente è fra Cristoforo, che vi potrebbe insegnare la dottrina. Quindi Renzo è stravolto un po' da tutte queste accuse false che ha sentito rivolte a se stesso. In più, inizia a essere un po' anche, diciamo, un ambiente esterno un po' minaccioso, perché tenebre, solitudine, la stanchezza che è cresciuta. Quindi inizia a trovarsi, diciamo, anche nell'oscurità, ovviamente, della nozze. E continua, appunto, passa alcuni abitati, alcuni, insomma, piccoli paesini, villaggetti, e continua a stare in orecchi per vedere se sente quella benedetta voce dell'Adda, ma in vano. Sente solo un mugolio di cani, e poi qualche rumore che viene da qualche cascina isolata. Quindi inizia a essere un po' impaurito, quindi di notte uno inizia a pensare, non gli viene in testa altro che ladri, malviventi, trappole. Quindi è un pochino intimorito. Inizia ad arrivare in un ambiente un pochino, diciamo, più boscoso, in cui ci sono una sodaglia di felci e di scope, quindi, insomma, di arbusti, di cespugli, e quindi inizia ad essere, diciamo, un pochino più selvaggio l'ambiente. Quindi intuisce, di parve, almeno una specie di indizio, comunque un argomento, che c'è un fiume vicino. E si inoltre, appunto, in quella direzione. Si ferma ancora ad ascoltare, ma ancora non sente il rumore del fiume che scorre. Ecco, questo è un passo significativo, perché Renzio inizia ad avere paura dell'oscurità. Quindi gli vengono un po' alla luce tutte quelle paure dei fanciulli. Quindi, insomma, si va di notte nel bosco, la casa un po' stregata, la casa abbandonata, quindi tutte cose che magari abbiamo anche esperito tutti nella nostra fanciullezza. E quindi viene assalito un po' da questi dubbi, questi timori, queste superstizioni, quindi storie di buio, di fantasmi, di oscurità, di streghe, che non ti moriscono per un po' di tempo.